Musica Bentrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione di Licata News. La scomparsa del giovane Angelo Truisi, il Licatese, è stata trattata anche dalla trasmissione Chi l'ha visto? in onda su Rai 3. Continuano intanto le ricerche da parte della Polizia e servizio di Giuseppe Cellura. Il caso del giovane operaio Licatese Angelo Truisi è stato trattato nella puntata della trasmissione Chi l'ha visto? andata in onda l'altro ieri sera su Rai 3. Al profilo del giovane Licatese, di cui non si hanno più notizie dal giorno successivo a Capodanno, è stata creata una scheda mandata in onda nel corso del programma. Scheda che riporta l'età 22 anni, la corporatura robusta, la statura di Angelo Truisi 172 cm, il colore degli occhi e dei capelli azzurri e castani, l'abbigliamento indossato prima della scomparsa, giubbotto blu con cappuccio, camicia nera, pantaloni blu con cintura bianca e nera e scarpe da ginnastica. Nella parte finale della scheda di Chi l'ha visto è poi indicata la data della scomparsa, appunto il 2 gennaio. Truisi manca da casa dalla sera del 1 gennaio. L'indomani i genitori si sono rivolti alle forze dell'ordine che hanno poi avviato le indagini che però finora non hanno portato al ritrovamento del giovane. Di Truisi si sa che è un operaio, lavora come fabbero. In città si parla ovviamente ormai da diversi giorni della sua scomparsa con illicatesi che nei bar e nei luoghi di ritrovo si interrogano sui perché della scomparsa del giovane 22enne. Le forze dell'ordine negli ultimi giorni hanno più volte smentito voci di presunti ritrovamenti del ragazzo e a indagare sul caso della Polizia di Stato che non sta tralasciando alcuna pista ritenuta utile al ritrovamento di Angelo Truisi. Un 51enne di Licata già noto alle forze dell'ordine disoccupato è stato arrestato dai carabinieri durante il pomeriggio. L'uomo deve spiare per fatti risalenti al 2011 la pena detentiva di 4 mesi per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'ordinanza di arresto è stata emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo il 13 gennaio ultimo scorso. Pertanto il disoccupato licatese dopo la notifica del provvedimento nella sede della locale stazione Carabinieri è stato riaccompagnato nella propria abitazione dove dovrà scontare la pena inflitta gli stati di detenzione domiciliare. Un'altra persona è stata arrestata sempre dai carabinieri della stazione di Licata su provvedimento di carcerazione emesso dal predetto Tribunale di Sorveglianza. SC operaio 65enne di Licata deve scontare la pena definitiva di 10 mesi ai domiciliari per oltraggio e resistenza pubblico ufficiale per fatti risalenti al 2010. Anche in questo caso i militari dell'arma dopo aver notificato il provvedimento di arresto al destinatario e dopo aver espletato le ulteriori formalità di legge in caserma hanno accompagnato l'uomo nella propria dimora per scontare la pena irrogata nei suoi confronti. Si sono posti ieri alla consegna delle reti del Tressorgente a Girgenti a quei sindaci di Palma, Campobello, di Licata e Racalmuto. Intanto sembrano emergere notizie sinora tenute all'oscuro che cambiano decisamente gli scenari. Tressorgente non è un carrozzone ma una risorsa ha affermato così il primo cittadino di Palma di Montechiaro Pasquale Amato. Sentiamolo in questa intervista. Emergono novità importanti per quanto riguarda la cessione delle reti idriche del Tressorgente a Girgenti Acque a renderle note è stato il sindaco di Palma di Montechiaro Pasquale Amato. Con l'apporto di un tecnico, l'architetto Cari che ci ha dato a scavalco il comune di Grotte stanno venendo fuori dei numeri che sono spaventosi. Perché? Perché il Tressorgente che è stato svenduto con l'idea che era un carrozzone di cui disfarsi perché aveva 6 milioni di debiti con la Sicilia Acque e 6 milioni di crediti con la Girgenti Acque. Allora il rischio sarebbe stato che se perdevamo da una parte con Sicilia Acque e Girgenti Acque si rifiutava di pagarci sarebbe stato un disastro per le comunità. Invece ora viene fuori piano piano che altro che 6 milioni di crediti per Girgenti Acque, sono 17 milioni di crediti per Girgenti Acque e stiamo scoprendo delle cose assurde dove di fatto il Consiglio si era attivato per farle venire fuori ma non aveva avuto il giusto contributo e aiuto dagli uffici del Tressorgente stesso prima, cosa che sta avvenendo adesso e scopriamo che il centro commerciale Le Vigne consuma acqua fornita dal Tressorgente e che Girgenti Acque invece si va a introitare, si va a ingassare oppure la stessa cosa usce dall'ospedale di Agrigento, riceve acqua dal Tressorgente e finora si è ingassato tranquillamente Girgenti Acque. Incontriamo tutta una serie di illeciti che noi cercheremo naturalmente di governare, però tutti questi dati che stanno facendo esplodere che altro che carrozzone, ci si voleva disfare di uno strumento che sarebbe stato probabilmente un pericolo per Girgenti Acque perché un giusto impegno da parte dei soci, amministratori a pretendere quello che è dovuto al Tressorgente, consorzio e quindi alle comunità che costituiscono il Tressorgente, altro che togliergli debiti, qui si tratta di introitare quello che è dovuto per aiutare le nostre comunità perché 17 milioni di crediti sono soldi, significa rinnovare le reti, significa veramente cambiare il contesto. Amato è anche fiducioso sul cambio di decisione da parte del commissario straordinario del comune di Licata Maria Grazia Brandara. Maria Grazia Brandara alla fin fine purtroppo rivestendo il ruolo di commissario si è catapultato in delle realtà che non si conosce in modo approfondito. Io non ho motivo per pensare male di Maria Grazia Brandara e quindi ritengo che alla luce delle conoscenze che stanno venendo fuori non ne deve escludere soprattutto anche nel rispetto della volontà della vostra città che ha detto chiaramente che non vuole che sopraggiunga la consegna delle reti e proceda alla revoca, io perché non devo essere fiducioso che di fatto Maria Grazia Brandara innanzitutto conosca qual è la realtà e quindi andare a revocare quella delibera non escludo che accada. Ieri intanto si è svolta l'assemblea per la consegna degli impianti che comunque è andata in bianco, il prossimo tentativo sarà il 9 febbraio. Loro ci hanno detto di convocare, cioè ci hanno convocati già per il 9 febbraio per la consegna delle reti. Noi per il 20 e il 21, in seconda convocazione, il 21 abbiamo richiesto una convocazione dell'assemblea e su quella metteremo sul tavolo la sopraggiunta decisione del Consiglio Comunale Delicato da una parte, dall'altra queste novità che è bene che nessuno dica non lo sapevo, dopodiché ognuno si prende la sua responsabilità e su questo penso che probabilmente quella decisione del 17 di dicembre tramonterà. Si informa che alle 9.30 di oggi si sono concluse a Porto e in Pedocle le operazioni di sbarco coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, di 348 migranti, fra cui 38 donne, due delle quali in stato di gravidanza e 20 minori, provenienti da Siria, Somalia, Nigeria, Algeria, Pakistan e Nepal, recuperati nel Mar Libico. Il mercantile battente bandiera italiana aveva avvistato un barcone in difficoltà alla deriva circa 50 miglia a nord delle coste libiche. Il comando di Porto ha informato la centrale operativa del comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto, che ha coordinato le operazioni di soccorso concluse con il trasbordo dei migranti sulla nave, successivamente diretta a Porto e in Pedocle, dove è giunta in rada alle 22.30 di ieri in attesa di entrare in Porto, su disposizioni della Prefettura e dell'autorità di pubblica sicurezza, le prime luci dell'alba. In merito ai problemi sollevati negli ultimi giorni dagli utenti riguardanti il servizio di prenotazione delle visite specialistiche attraverso il call center del CUP azientale, si precisa che a breve il servizio CUP sarà riorganizzato per garantire il funzionamento su una più larga fascia oraria. Inoltre, per evitare le file e il disagio dei cittadini non residenti nelle città della provincia, è stata adottata una delibera per la convenzione con poste italiane per il pagamento del ticket tramite POS. Giova inoltre ricordare che il servizio è non sostitutivo, pertanto risulta ancora possibile la prenotazione sulle prestazioni specialistiche in maniera diretta mediante gli sportelli di front office presenti nei 22 poli ambulatori della provincia e nei 5 ospedali provinciali. Cambiamo adesso nettamente argomento e parliamo di politica locale. È stata presentata stamattina la candidatura a sindaco di Giuseppe Ripellino. La conferenza stampa è stata ospitata nella sede di Ama la tua città. Sentiamo. Consigliere Ripellino, l'annuncio di questa candidatura che era nell'area ormai da tempo, oggi la comunicazione ufficiale alla città. Guardi, io da tanto tempo con molti amici miei che mi hanno spinto a fare questo passaggio per la candidatura a sindaco, visto che già da un vendennio ho fatto il consigliere comunale, avendo ricoperto pure la carica di presidente del consiglio comunale come capogruppo e presidente di commissione e così via, gli amici miei mi hanno spinto a questo onore e onore gravoso che già sono proiettato a questa candidatura a sindaco, perché noi Licata ha bisogno tanto di persone che vogliono lavorare e spendersi per Licata. Io dico dal 1994 che ho avuto un ruolo nel consiglio comunale e ho dato, ho fatto tanto. Per questo le persone che mi hanno spinto a far sì che mi candidassi a questo ruolo importante, dobbiamo pure per chi fa politica dare un po' di vivacità, di dare un po' di armonia, di cercare di dare un po' di speranza a quelle persone che ne hanno bisogno, perché oggi sappiamo che c'è mancanza di lavoro, tutto quello che gira attorno all'aumento dei tributi, l'aumento delle tasse e quindi quello che è il ruolo che deve fare il politico è quello di dare speranze e lavorare per Licata. Il nostro motto sarà parlare poco e lavorare molto, perché a Licata ci sono tante e molte potenzialità che noi dobbiamo sviscerare e metterle in gantiere. Ama la tua città, siamo nella serie di Ama la tua città, è una lista civica che appoggerà la sua candidatura e ci sono altri partiti, ci sono altre liste. Allora, in questa fase vicino a me ci sono tre liste, una che la propongo è che sarà la lista del sindaco, l'altra sarà un'altra lista che ancora devono denominarla e questa ama la tua città. Più annuncio che c'è la probabilità che un'altra lista si affiancherà pure a noi, perché credono in questo progetto, credono nella persona di Pino Ripellino, perché fino a tutt'oggi mi sono mantenuto sempre in quelle che sono le norme dettate della Costituzione e le norme dettate anche nella morale della persona, perché mi conosce, non sono laureato, perciò ho in più la laurea della strada perché sono a contatto con tutte le persone e quindi posso capire quali sono le esigenze che sia la città e le persone che vivono a queste città hanno e quindi oggi mi sono messo nelle condizioni di cercare di sbracciarmi, per cercare di lavorare perché dopo tutto dietro le mie spalle, vicino a me ci sono deputati come Benzai e come sanno la città che sono rappresentanti nella comunità europea, ci sono deputati o senatori che sono a Roma e ci sono vari deputati che sono amici miei e ho l'onore di essere amico loro e quindi oggi con questa candidatura e se domani arriveremo alla sindaca che sarò sindaco di legate, andremo a sfruttare queste persone. Nell'ambito delle iniziative indette nella parrocchia di San Domenico dal gruppo parrocchiale di azione cattolica per la celebrazione del loro ottantesimo anniversario della fondazione è stato indetto un convegno sul tema Un solo Dio, tre religioni, cristianesimo, ebraismo ed islamismo che si terrà mercoledì 21 gennaio alle ore 16.30 presso la sala capitolare dell'ex convento del Carmine, sito in Corso Roma. L'architetto Massimo Muratore, presidente diocesano di azione cattolica, porterà i saluti dell'associazione. Intanto modereranno i lavori la professoressa Floriana Costanza. Venerdì 23 gennaio alle 16.30 presso la sala del Consiglio Comunale di Raffadale, organizzato dall'associazione culturale Aldamerini, quindi liberamente donna, e dalla postulazione della causa di canonizzazione del servo di Dio Rosario Angelo Livatino, con il patrocinio del Comune di Raffadale si terrà un convegno sul tema etica e responsabilità nelle istituzioni e nella società. L'iniziativa si aprirà con i saluti del commissario del Comune di Raffadale, il dottore Lucio Guarino, cui seguirà l'introduzione di Esther Vedova, presidente dell'associazione culturale Aldamerini. A seguire gli interventi dell'arciprete di Raffadale, don Giuseppe Livatino Guarnotta, presidente del Tribunale di Palermo, Maria Falcone, presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. Adesso parliamo della dedola ambiente, ancora problemi per i netturbini della società d'ambito. Manca una parte dello stipendio di dicembre, è a metà tredicesima. Da lunedì, probabili, assemblee, il servizio di Giuseppe Cellula. Si prospetta un nuovo stato di agitazione da parte dei netturbini del cantiere di Licata. Gli operai della società d'ambito territoriale e dell'ambiente attendono infatti ancora il completamento del salto della mensilità di dicembre 2014 e il pagamento della restante parte della tredicesima. Nello specifico, agli operatori ecologici del cantiere licatese sono stati finora corrisposti il 75% dell'ultimo stipendio dell'anno passato e metà tredicesima. Come si ricorderà, sul finire del mese di dicembre si riuscì ad ovviare per tempo ai problemi grazie ad alcuni trasferimenti economici operati dal comune di Licata, uno dei soci della De dell'Ambiente. Da ieri i netturbini hanno pertanto annunciato che qualora la situazione non si dovesse sbloccare a stretto giro di posta, sono pronti a proclamare lo stato di agitazione. Le organizzazioni sindacali sono state ovviamente allertate ed è verosimile pensare che già all'inizio della prossima settimana potrebbero tenersi le prime assemblee alla fine dei turni di lavoro, replicando quanto è già successo a dicembre, quando anche allora i netturbini erano in attesa di ricevere lo stipendio. L'impressione è che stavolta per sbloccare la situazione ci vorrà un po' più di tempo. Si è infatti registrato nelle ultime ore un avvicendamento tra commissari alla guida De dell'Ambiente, in sostituzione di Monreale. Come ci ha spiegato ieri l'equidatore Rosario Miceli, con il nuovo commissario che si è da poco insediato, ci vedremo la prossima settimana, quando è stata fissata una riunione. E quindi un momento di passaggio per la De dell'Ambiente, non è possibile fissare date e scadenze certe, né turbini licatesi, quindi in ansia. Anche gennaio è entrato nella seconda parte e a breve, a quanto già vantato agli operatori ecologici, si aggiungerà anche alla mensilità del primo mese dell'anno. Adesso un'occhiata alla programmazione del Fly Cinema. Dal 15 gennaio al Fly Cinema, Exodus in 3D. Mosè e Ramses, futuro sovrano d'Egitto, sono allevati come fratelli da Seti, faraone illuminato, che governa con saggezza alla sua gente, difende i suoi confini con l'aiuto dell'esercito e la benevolenza degli dèi. In battaglia, Mosè, raccolto dalle acque del Nilo da una principessa, è cresciuto come un figlio da Seti. Salva la vita a Ramses, principe irrequieto e complessato, che alla morte del padre e sul consiglio della madre, decide di esiliarlo. Le origini ebraiche di Mosè, rivelate dai saggi che riconoscono in lui il profeta che libererà il popolo da una schiavitù lunga, 400 anni, gli alienano la lealtà del fratellastro e lo conducono verso un destino più grande. Il film sarà trasmesso tutti i giorni alle ore 18 e alle ore 21. Come ammazzare il capo 2? Nick, Kurt e Dale hanno deciso di diventare i capi di loro stessi, il brevetto del doccia amico dovrebbe fare al caso loro. Malgrado una vergognosa presentazione in televisione, l'affare sembra infatti concretizzarsi quando un miliardario dell'industria commissiona loro la prima tiratura di 100.000 pezzi. Peccato che sia un tiro mangino. Per non finire rovinati, i nostri ipotizzano di rapire il figlio del magnate, il presuntuoso Rex, salvo poi lasciar cadere l'idea. Allora però è lo stesso Rex a imporre loro il suo rabbimento per riscattare il padre. Il film sarà trasmesso tutti i giorni alle ore 17.30 e alle ore 19.30. American Sniper. Chris Cayley, texano che cavalca Tori e non manca un bersaglio, ha deciso di mettere il suo dono al servizio degli Stati Uniti fiaccati dagli attentati alle sedi diplomatiche in Kenya, in Tanzania. Arrulatosi nel 1999 nelle forze speciali dei navi SEAL, Cale ha stoffa e determinazione per riuscire a ottenere l'abilitazione, perché, come gli diceva suo padre da bambino, lui è nato pastore di greggio e votato alla tutela dei più deboli contro i lupi famelici. Il film se l'ha trasmesso tutti i giorni alle ore 21.30. Inoltre, e attiva alla pre-vendita del film 50 sfumature di grigio, i trailer dei film sono disponibili su www.flycinema.it. Un'occhiata adesso alla rubrica degli eventi del mese e alla pubblicità. Da gennaio e fino a 15 marzo tenetevi saldi. Eccezionali sconti presso il Centro Commerciale Iporto, in tutti i punti vendita. Centro Commerciale Iporto, la tua guida nel mare degli acquisti. Vi aspettiamo! Questo programma è offerto da Nuova El Sombrero, strada statale 115, contrada a Saffarello, Alicata Dai Fratello Antona, grande la qualità, grande la scelta di piccolo, c'è soltanto il prezzo. Scusate se è poco Alicata domani, cieli molto nuvolosi o coperti per l'intera giornata. Sono previste deboli piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17 gradi, la minima di 11 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da est, al pomeriggio moderati e proverranno da sud-est. Mare mosso, umidità oscillante tra il 75 e il 90%. Questo programma vi è stato presentato da Rientriamo in studio con la seconda parte di Licata News. Il Tar ha sospeso il trasferimento di un sottoufficiale il quale resterà in servizio presso il circomare di Licata. Sentiamo. Sospeso dal Tar, il trasferimento da autorità di un sottoufficiale in servizio presso il circomare di Licata. L'uomo di 42 anni, ruolato nel corpo delle Capitanerie di Porto, sottoufficiale in servizio presso il circomare di Licata, in un primo momento era stato confermato nella sede di servizio. Da ultimo, per inderogabili esigenze di impiego, era stato trasferito da autorità al compamare di Corigliano Calabro, con decorrenza al gennaio 2015. Il sottoufficiale ha allora proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto, per l'annullamento, previa sospensione del trasferimento da autorità dal circomare di Licata al compamare di Corigliano Calabro. In particolare, gli avvocati Rubino e Piazza hanno censurato il provvedimento impugnato sotto molteplici profili di eccesso di potere, per carenza di motivazione e per contraddittorietà manifesta tra gli atti successivi della pubblica amministrazione, nonché per violazione del principio dell'affidamento avente rilevanza costituzionale, sottolineando altresì il periculum immora rappresentato dall'eventuale decadenza della concessione dell'alloggio di servizio. Si è costituito in giudizio dunque il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta di sospensiva. Il Tar Sicilia, con il presidente Nicolò Monteleone e con il relatore Luca Lamberti, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Piazza sotto il profilo dell'eccesso di potere, ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e pertanto, per effetto della pronuncia cautelare resa dal Tar Sicilia, il sottoufficiale resterà in servizio presso il Circo Mare di Licata e manterrà anche l'alloggio di servizio. È stato inaugurato il dissalatore Lampedusano, sull'isola maggiore delle Pelage. Per la cerimonia sono arrivati il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Graziano del Rio, e assieme a lui il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, con l'assessore regionale all'energia, Vania Contraffatto. Presente è anche il presidente della regione, Rosario Crocetta, che ha brindato con un bicchiere d'acqua dissalata. Torna il concorso fotografa la sagra del mandorlo in fiore, giunto alla sua quinta edizione. Anche quest'anno verranno premiate le migliori foto a colori e quelle in bianco e nero. Il premio alla migliore foto in bianco e nero, nella settantesima edizione della sagra, verrà dedicato alla memoria di Enzo Lauretta. Memoria storica della manifestazione, che tra l'altro è stato anche ospite d'onore nel corso della cerimonia di premiazione di un'edizione passata del concorso. Lo stesso, come sempre, punta a raccogliere le migliori foto della sagra per poterle utilizzare a titolo gratuito per fare promozione turistica. Anche quest'anno, nel corso della settimana della sagra, verrà allestita una mostra fotografica con tutti gli scatti risultati vincitrici delle edizioni trascorse. Anche la compagnia teatrale Antidoto di Gela parteciperà nell'ambito della rassegna teatrale Fratelli di Scena Campobello di Licata-Carmes, alla quale parteciperanno anche due compagnie licatesi. La fortuna con la F maiuscola. E questo è il titolo della commedia brillante di Edoardo De Filippo che sarà portata in scena sabato 31 gennaio alle ore 20.30 dalla compagnia teatrale Antidoto di Gela nell'ambito della rassegna Fratelli di Scena Campobello di Licata. Si tratta del terzo appuntamento con il teatro che ancora vedrà calcare il palcoscenico a altre compagnie della provincia agrigentina, oltre che Nissena. La manifestazione, che come ogni anno si svolge presso l'auditorium Centro Polivalente della cittadina Campobellese è organizzata dall'associazione Elios Artisti Associati, inerente alla compagnia teatrale Quelli della Parnasso. Il ricavato degli eventi saranno utilizzati per la creazione di laboratori teatrali per i ragazzi meno fortunati. A salire sul palco stavolta saranno Guglielmo Greco, Emanuele Giammusso, Loria Ardore, Luigi Licata, Sabrina Comunale, Marco Abbate, Elio Bessio, Francesco Vacca, Maria Grazia Sanzo, Orazio Faraci, Federico Alba e Fabio Cauchi con la regia di Guglielmo Greco. Una rassegna a cui parteciperanno anche i compagnie teatrali di Licata che coniuga arte e solidarietà in quanto coadiuva nell'eliminazione della dispersione giovanile. La compagnia vanta inoltre un gruppo di piccoli attori in erba i quali hanno già calcato il palcoscenico e che potrebbero essere il futuro di quelli della Parnasso. Lo sport in casa Accademia Licata è alta all'attenzione in vista della gara di domani pomeriggio che vedrà i giallo-blu di mister Angelo Vecchio opposti alla capolista Raffadali. Il gruppo ha lavorato forte per tutta la settimana. La seduta di oggi pomeriggio allo stadio Dino Liotta chiuderà la settimana di allenamenti e sarà l'occasione per sciogliere gli ultimi eventuali dubbi di formazione. Sicuramente out Antonio Ortugno squalificato, mentre è certo di rientrare Prestino che contro il Borgata Terrenove Marsala ha scontato il proprio turno di squalifica e che a Raffadali si candida per una maglia da titolare sull'out di destra difensivo. In chiusura il basket. Dopo aver concluso con una vittoria di girone d'andata, la studentesca Vivere e Viaggiare sarà impegnata domani pomeriggio alle 18 al Palafragapani contro il Giarre, una sfida che i licatesi non possono lasciarsi sfuggire per continuare il sogno della promozione. Capitan Falanga e compagni potranno inoltre continuare e contare appunto sull'apporto del pubblico amico del Palafragapani che diverse volte in passato ha già trascinato la Vivere e Viaggiare. Questa era l'ultima notizia e grazie per la vostra cortesa attenzione. Arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.